... Mamma mia, non la sto perendo! Che tempo, questo! Signora, che ci fa qua a quest'ora? Sai che macchina, che le dà un passaggio Così si prende la bella droghina Sì, sì, sì Così ma che cosa si è passato? A quest'ora, qua da sola Prego, niente di farlo Mi scusi, ma lei dovrà abita? Scusi, ma lei dovrà abita? Scusi, ma lei dovrà abita? Io mi chiamo Piero Lei? Samantha Sofì Scusi Sono usato Scusi 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 No, no, no. cavolo il giubbotto facciamo manovra ecco siamo arrivati a chi cerchi? mi scusi ma lei chi è? io sono rimarrato per favore anche dicembre di fa ho compagato la ragazza e gli ho dato il mio giubbotto sono venuto a riprenderlo ma dov'è quello? ho capito ci ho perso il giubbotto ho cercato di fare una barra di pene e mi ha fregato è un' notizia un' notizia e un' notizia Ma questo non è il mio giubbotto. E' quella che l'altra volta gli ho dato il passaggio. Samantha Cavallari. 1870... 1890... Allora è una fantasma!